allora si spera in bronia se esce qualche cosina si spera si spera decisamente in bronia cerchiamo di 5 stelle 5 stelle 5 stelle 5 stelle no che culo no era soft pd quindi c'è dovevo c'era soft pd poteva poteva uscire però attenzione attenzione ok io vado avanti non guardo che cosa ho ottenuto bronia super